È quasi un miracolo che anche nella povertà la famiglia continui a formarsi e persino a conservare, come può, la speciale umanità dei suoi legami. Il fatto irrita quei pianificatori del benessere che considerano gli affetti, la generazione, i legami familiari come una variabile secondaria della qualità della vita. Non capiscono niente. Invece noi dovremmo inginocchiarci davanti a queste famiglie che sono una vera scuola di umanità che salva le società dalla barbarie. Così Papa Francesco ha reso omaggio alle famiglie povere nella Catechesi dell'Audienza Generale, offerta più di 30.000 fedeli raccolti in Piazza San Pietro, iniziando a parlare della vulnerabilità della famiglia nelle condizioni di vita che la mettono alla prova. La dignità con la quale molte famiglie disagiate conducono alla loro vita quotidiana, ha aggiunto il Papa, non deve giustificare la nostra indifferenza ma semmai aumentare la nostra vergogna. Serve, ha denunciato il Pontefice, una nuova etica civile e per questo i responsabili della vita pubblica devono riorganizzare il legame sociale, a partire dalla lotta alla spirale perversa tra famiglia e povertà, che ci porta nel baratro. Noi cristiani, ha concluso Papa Francesco, dovremmo essere sempre più vicini alle famiglie che la povertà mette alla prova. In effetti la miseria sociale colpisce la famiglia e a volte la distrugge. La mancanza o la perdita del lavoro incidono pesantemente sulla vita familiare, mettendo a dura prova le relazioni. Preghiamo il Signore perché renda le nostre famiglie cristiane protagoniste di questa rivoluzione della prossimità familiare, che ora è così necessaria. Grazie.